Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il lanciere ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta Match Attacks di Topps perché Topps ci ha regalato questi due aggiornamenti, sono l'aggiornamento Snowballer e l'aggiornamento Stallballers l'aggiornamento numero 3 e l'aggiornamento numero 4 e quindi sul canale vi porterò lo spacchettamento di questi due update che servono a terminare la raccolta Match Attacks 2023-2024 al 100% prima di partire con l'unboxing però io vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e allora direi di partire subito mettiamo da parte l'aggiornamento numero 4 e partiamo con lo Snowballers vi ricordo che questi update sono già sul sito Topps Italia quindi se vi collegate al link sul canale di Topps sulla pagina internet di Topps trovate sia questo che quest'altro costano 9,99€ l'1 ma sono indispensabili per riuscire a terminare la raccolta al 100% ci sono tante novità e tanti calciatori anche delle squadre che non erano stati inseriti come il Napoli ad esempio nella raccolta originale e poi anche con Match Attacks Extra troveremo le squadre che non erano inserite all'interno della raccolta come sempre il Napoli, l'Atalanta, la Fiorentina e chi ne ha chi ne metta iniziamo a spacchettare quindi gli update Snowballer all'interno di questa confezione troveremo due pacchetti eccoli qua due pacchetti della raccolta classica e poi ben 16 più una carta sono 16 carte esclusive Snowballer più la carta in edizione limitata andiamo a vedere in questo caso chi troviamo direi di partire subito in maniera leggera con lo spacchettamento di questi due pack non dovrebbe esserci niente di particolarmente interessante sono carte che ormai conosciamo veramente bene vediamo un po' solo se troviamo qualche carta rara subito abbiamo visto qualcosa di interessante abbiamo trovato Mohamed Simakan, la Pro Elite questa è una gran bella carta, è una carta Pro Elite base quindi non è in versione parallela non è numerata continuiamo col capitano del Borussia e Marco Reus e poi abbiamo una Butler di Alcantara e Touré Cult Hero quindi queste le mettiamo da parte abbiamo trovato una bellissima carta comunque trovare in un pacchetto di aggiornamento una carta più rara come quella di Simakan Pro Elite è sempre un bel colpo continuiamo qui con le carte base e vediamo un po' chi troviamo abbiamo trovato Goncalves lo stemma del Milan David Alaba Cristal anche questa è una bella carta anche perché è una Cristal di un gran bel giocatore poi troviamo la Man of the Match di De Bruyne e la Guardian di Matthias De Ligt quindi queste le mettiamo da parte e a questo punto ci andiamo ad aprire il nostro pacchettino con le carte di aggiornamento Snowballer queste inizialmente sono uscite a novembre sul sito TopsOK ma adesso sono disponibili anche sul sito italiano quindi ragazzi se le cercate andatevi a recuperare subito sul sito Tops e iniziamo subito con la carta Snowballer Limited Edition di Randall Colomani in maglia Paris Saint Germain questa è una carta veramente molto bella e poi troviamo Josco Guardiol Endo per il Liverpool ancora per il Liverpool Gravenberg Mohamed Koudus in maglia West Ham João Cancelo João Felix per il Barcellona Dembélé abbiamo Sergio Ramos tornato al Sevilla Robin Gosens in maglia Union Berlino la carta di Irving Lozano al PSV e Jesper Lindstrom in maglia Napoli troviamo Kamada per la Lazio e continuiamo con Scamacca per l'Atalanta Lukaku in maglia Roma Angelino in maglia Galatasaray e ancora in maglia Galatasaray abbiamo trovato anche Wilfred Zaha e allora carte veramente veramente molto interessanti queste le mettiamo da parte e lasciamo la Limited Edition di Colomani in vista eccola qui perché adesso ci andiamo ad aprire il quarto ed ultimo aggiornamento questo è il mio preferito perché guardate qui che grafica hanno queste carte Star Ballers e ci sono dei giocatori veramente top vi ricordo ancora il prezzo 9,99 euro lo trovate sul sito Tops Italia pacchettone aperto eccolo qui il nostro pack da 17 carte e i nostri due pacchetti con le carte della raccolta standard che ci apriamo subito allora andiamo a vedere abbiamo Upamecano Savic Colomani qui infatti era ancora in maglia Francoforte Rodrigo Moreno Diogo Iota Bremer Merino lo stemma dell'Aston Villa e poi Lewandowski Finisher una Next Gen e una carta Heritage abbiamo trovato Nauf qui Next Gen ultimo pack dei quattro che avevamo a disposizione e continuiamo con Rulli poi abbiamo Willy Orban Gimenez Malasia abbiamo Ings Kovacic Bastoni Tammy Abram poi il capitano del Rangers Tavernier una carta Crystal ed è Joe Gomez per il Liverpool e poi la Butler di Goresca e la Man of the Match di Josco Guardiol anche queste le mettiamo via perché adesso abbiamo da aprire l'ultimo pacchettino aggiornamento e con questo finiamo finalmente questa raccolta e possiamo passare alla raccolta Match Attacks Extra guardate qui che cosa troviamo davanti a tutto una limited edition pazzesca Star Ballers e Jude Bellingham eccola qui la mettiamo vicino a Colomoni eccola qui e poi partiamo subito con Julian Alvarez mamma mia guardate qui che carta Star Ballers Erling Haaland più che un aggiornamento è veramente una lista di grandi campioni dalla 1 alla 16 abbiamo Lamin Yamal Antoine Griezmann Kubo per la Real Sociedad Rakitic guardate qui Kylian Mbappé ma che carte stanno uscendo Musiala Savi Simons Angel Di Maria e la carta di Victor Osimène per il Napoli anche questa fantastica Lautaro mamma mia io ve l'avevo detto che questo era un pack veramente speciale e terminiamo con Maurito Icardi con tutte queste carte anche del Galatasaray e con questa carta abbiamo terminato questo video ragazzi vi voglio far rivedere queste due limited edition spettacolari la Star Baller di Jude Bellingham e la Snow Baller di Randall Colum One E limited edition abbiamo aperto dei pacchetti fantastici vi ricordo ancora sito tops Italia per acquistare questi ultimi due multipack di aggiornamento e allora con gli update 3 e 4 io prima di passare saluti vi voglio ricordare ancora una volta l'iscrizione al canale se ancora non lo avete fatto di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video e le novità che andrò a portare sul canale e soprattutto schiacciate un bel like a questo video e a questo punto con le carte della raccolta tops match attacks 2023-2024 da lancire è tutto ci vediamo a un prossimo video ciao